Buongiorno, siamo in collegamento con Marina Boscaíno che è la portavoce nazionale dei comitati per il ritiro di ogni autonomia differenziata. Senti Marina, voi da anni siete al lavoro per tentare di fermare le operazioni che i diversi governi, le diverse maggioranze che si sono succedute hanno tentato di mettere in atto a proposito della autonomia differenziata. Adesso stiamo arrivando un po' al dunque perché il disegno di legge sull'autonomia differenziata che porta il nome di Calderoli perché è lui che ha predisposto il disegno di legge sta andando avanti, anzi al Senato ormai siamo arrivati alla fine, è stato già approvato, aspettiamo il passaggio alla Camera ma insomma oramai diciamo che i giochi sembrano fatti. Ne siete convinti oppure voi pensate che di qui a quando poi si dovrà concludere il lavoro alla Camera potrebbe ancora capitare qualcosa? Allora il DDL Calderoli intanto è stato già assegnato alla prima commissione bilancio della Camera dei Deputati quindi a riprova di quello che siamo, ciò a cui stiamo assistendo questo governo va rapidissimo, speditissimo naturalmente in previsione delle elezioni europee imminenti e di una possibilità di far ascrivere alla Lega una vittoria sul fronte dell'autonomia differenziata. Allora per rispondere direttamente alla tua domanda io penso che sia molto difficile naturalmente che accada qualcosa, cioè dovrebbe accadere una clamorosa litte tra i maggiori attori di questo governo, dovrebbe accadere uno scandalo straordinario, insomma dovrebbe accadere davvero qualcosa di molto imprevedibile, di molto improbabile. Quello però che bisogna dire è prima di tutto che i meccanismi della Camera, cioè i regolamenti della Camera prevedono un maggiore spazio di agibilità per contrastare il DDL Calderoli e permettono anche uno struzionismo serio, cosa che non è stato consentito al Senato. E intanto quando anche il DDL Calderoli dovesse passare alla Camera come ragionevole che sia, ci sono ancora tante azioni da tentare, azioni di cui magari parleremo prima, ma prima di tutto c'è la necessità, noi come dicevi sono sei anni che ci occupiamo esclusivamente di autonomia differenziata, il nostro nome che è lungo e molto significativo, noi ci chiamiamo Comitati per il ritiro di ogni autonomia differenziata, l'unità della Repubblica e l'uguaglianza dei diritti, cioè guardiamo, oltre al contrasto all'autonomia differenziata, guardiamo al dettato dell'articolo 5 della Costituzione che dice che la Repubblica una indivisibile promuove le autonomie, ora è evidente se l'autonomia differenziata che è già uno simoro, cioè è un contrasto concettuale notevole rispetto al dettato dell'articolo 5, è evidente che non rimarrà, non tenderà a far rimanere la Repubblica una indivisibile e poi al dettato dell'articolo 3, ovviamente, il secondo comma dell'articolo 3, quello che dice che è compito della Repubblica promuovere l'uguaglianza sostanziale tra le donne e gli uomini di questo paese. Quindi, per andare ancora sulla tua domanda, io credo che sarebbe utile avvicinarsi a questa lotta, ai tanti soggetti che sono stati distratti, che sono ancora inconsapevoli, come sono inconsapevoli totalmente la maggior parte delle cittadine e dei cittadini di questo paese, che non sanno che se tutte le cose pilano come vorrebbe Calderoli, come vollebbero Calderoli, ricordiamoci la Meloni che sta perpetrando il peggiore tradimento delle promesse elettorali al Sud attraverso l'autonomia differenziata. Tra un anno noi ci potremmo trovare ad avere una Repubblica Arlecchino con varie regioni che tentano di chiedere da una a 23 materie che riguardano la nostra vita quotidiana, compresa la scuola. Ecco, senti Marina, però diciamo che il tema ha radici storiche che vanno indietro negli anni, perché è esattamente la riforma del titolo quinto della Costituzione del 2001 che ha consentito a Calderoli di presentare questo disegno di legge. Ecco, come mai dal 2001 si arriva solo oggi a questo nodo? Allora, si arriva solo oggi perché in parte il tentativo fu già fatto nel 2006 con il referendum, con la riforma costituzionale di Berlusconi che fu bocciata dagli elettori e poi perché diciamo in maniera molto intelligente le regioni capofila di questo tentativo, che è un tentativo dal nostro punto di vista eversivo rispetto all'unità della Repubblica, hanno come sai nel 2017, diciamo facendo passare il tempo debito dalla riforma di Berlusconi, tentato un referendum popolare, un referendum esclusivamente consultivo, che fu un vero e proprio plebiscito. Il quesito dichiarava semplicemente, chiedeva vuoi tu più autonomia? Ora immagina di che qualcuno dica no, io guarda l'autonomia non la voglio, quindi un plebiscito per il sì, in Lombardia molto di meno, ma comunque una vittoria anche in Lombardia del sì. Tant'è, questo accadeva nell'ottobre del 2017, che il 28 febbraio del 2018 il governo Gentiloni firma, sigla le preintese con queste tre regioni, Maroni per la Lombardia, Zaia per il Veneto e Bonaccini per l'Emilia Romagna. Senti, veniamo però alla scuola, al sistema scolastico. Secondo voi cosa accadrebbe se davvero passasse il progetto di autonomia differenziata che questa maggioranza si appresta ad approvare? Allora, per capire che cosa accadrebbe, basta guardare le preintese del Veneto. Le preintese del Veneto all'articolo 11 attaccano le norme generali dell'istruzione, cioè chiedono che il Veneto possa avere potenza legislativa esclusiva non sull'istruzione in generale, ma sulle norme generali dell'istruzione, cioè quelle previste dall'articolo 33 della Costituzione, cioè su tutto quello che riguarda la scuola. Che vuol dire? Vuol dire che contratti, organico, ruoli, valutazione, mobilità e trasferimenti, offerta formativa, formazione dei docenti, finalità e obiettivi, disciplina e finanziamenti delle scuole private e paritarie, modalità di alternanza scuola-lavoro e vi ho detto, diciamo, una parte, quella che a me sembra più importante, delle competenze che il Veneto chiede, andrebbero nelle mani esclusive totali della regione. Abbiamo capito, ma facci un paio di esempi, così almeno capiamo meglio di che cosa stiamo parlando. Allora, prima di tutto, il primo esempio concreto, io trovo, e anche il più grave, è che questo determinerà la perdita di valore legale del titolo di studio. Perché? Perché un diploma conseguito ad Enna sarà diverso da un diploma di liceo classico, mettiamo, cioè dello stesso ordine di scuola, conseguito a Campobasso di uno, conseguito a Treviso. E considerando che la regione Veneto tratterrà molti più fondi e avrà molti più vantaggi, partendo tra l'altro da una situazione già privilegiata, è chiaro che sul mercato dell'incanto, diciamo, noi avremo che la regione Veneto dovrà, vedrà sicuramente dei flussi migratori di studenti che andranno a rivolgersi lì per avere il titolo di studio più prestigioso. Mi faccio un altro esempio. Voi pensate davvero che una Marina Boscaino con 35 anni di meno verrebbe reclutata così tranquillamente con, diciamo, una Marina Boscaino che ha fatto delle battaglie che ad ogni collegio si riserva, se crede, di fare un casino, di sollevare il caso, eccetera, verrebbe reclutata a cuor leggero dall'ufficio scolastico regionale che deterrà il reclutamento degli insegnanti. E ancora, riflettiamo sul fatto che gli insegnanti, docenti della scuola italiana, avranno la propria formazione, diciamo, definita e probabilmente impartita dall'ufficio scolastico regionale che, lo ripeto, è un organo di orientamento politico e quindi, chiaramente, se l'ufficio scolastico regionale di una data regione tenderà, come è molto probabile che sia, dati questi presupposti, a contrarre quello che prevede il primo comma dell'articolo 33, l'arte e la scienza sono libere e libero di insegnamento, io credo che noi possiamo salutare definitivamente quel comma e quello che il comma significa in termini di democrazia del Paese. Ma ho fatto solo due esempi, pensate anche all'accesso alla parità scolastica, come sarà condotto in maniera, diciamo, più arrembante di quanto non sia adesso dalle regioni che gestiranno, normeranno e così via tutta la questione. Senti Marina, ma qui c'è chi sostiene che una volta approvata la legge però si potrà promuovere un referendum. Come stanno le cose? Ma guarda, io entro in un campo che non è il mio, io insegno italiano e latino al liceo classico e diciamo sono anche piuttosto attenta a non sconfinare, però è anche vero che sono circa 30 anni che mi occupo, prima diciamo relativamente alla materia istruzione, poi a tutte le varie, i vari tour de force a cui governo dopo governo ci hanno chiamato tentando di manomettere la Costituzione italiana che la Costituzione la conosco abbastanza bene. Quindi io non credo, ma lo dico sulla scorta di pareri di illustri costituzionalisti, che questo referendum davvero si può fare perché il DDL Calderoli è collegato alla legge di bilancio e la Costituzione esclude la possibilità di referendum su pochissimi casi, tra cui su legge di bilancio e diciamo suoi collegati e acclusi diciamo. Detto questo, ma sempre per aver sentito parlare esimi costituzionalisti di questo tema che naturalmente è oggetto di studio in questo momento da parte di tante e di tanti, c'è un margine di possibilità rispetto all'ammissibilità di un quesito referendario sul tema DDL Calderoli, semplicemente nel fatto che poiché il DDL Calderoli prevede l'assenza di oneri aggiuntivi per lo Stato, cioè detta in altre parole brutalmente vogliono fare l'autonomia differenziata a costo zero e qui si apre un'altra valanga di osservazione, si apre un'altra valanga di osservazioni che potremmo fare, questo collegamento risulterebbe solo formale e non sostanziale e quindi bisognerebbe appellarsi diciamo ad una delibera della Corte Costituzionale, ad una sentenza della Corte Costituzionale che però naturalmente come sappiamo, ahimè, dipende dai equilibri politici, quindi direi che è molto difficile che si possa celebrare un referendum su questa materia. Senti Marina, qui però c'è una questione anche di natura un po' politica che non dobbiamo dimenticare. Ora, questa maggioranza già in campagna elettorale aveva chiarito che aveva alcuni progetti in mente, tra cui anche questo dell'autonomia differenziata. La maggioranza, cioè i partiti che ora fanno parte della maggioranza, si sono presentati agli elettori, hanno vinto le elezioni e quindi legittimamente dal loro punto di vista portano a compimento quello che hanno, tra virgolette, promesso in campagna elettorale. Quindi alla fin fine non è uno scandalo il fatto che si parli di autonomia differenziata, cioè voglio dire bisognava già aspettarselo o no? Allora, sulla carta direi no, nel senso che l'autonomia differenziata sulla carta, tieni presente che nel 2014 Giorgia Meloni ha presentato un progetto di legge per abolire le regioni, quindi sulla carta uno dovrebbe dire che il partito di Dio, Patria e Famiglia l'autonomia differenziata proprio non la può ingurgitare. Detto questo, però noi sappiamo che il governo ha fatto uno scambio, un patto scellerato, no? Tu mi dai l'autonomia differenziata a me, io ti do il premierato a te. E diciamo il fatto che Fratelli d'Italia continui ad avere ovviamente qualche problema al proprio interno rispetto alla devoluzione, diciamo, di quella idea che il deputato, scusami, che il senatore che ha parlato da ultimo in aula per fare il pronunciamento di voto di Fratelli d'Italia, ha detto il valore sacro, ha usato questa parola, dell'unità nazionale, beh, qualche problema ce l'hanno, tant'è vero che questo stesso senatore che si chiama De Priamo aveva presentato due giorni prima, quando ancora si stava dibattendo in Senato, un emendamento che prometteva, che prevedeva in sostanza questo, una regione che ha, dopo la definizione dei LEP, una regione che sfori i LEP su una determinata materia, su una determinata compesa, su una prestazione, i LEP sono i livelli essenziali di prestazione, trascinerà con sé nell'omogeneizzazione del livello più alto tutte le altre regioni. Naturalmente, è intervenuta immediatamente la commissione bilancio, è intervenuta la ragioneria dello Stato e gli ha detto De Priamo, stai buono, torna e quindi l'emendamento è stato cassato. Senti, hai citato i LEP, i livelli essenziali delle prestazioni. Diciamo due parole su questo, poi ci avviamo alla conclusione, riferendoci soprattutto all'ambito scolastico. Cioè, in campo scolastico quali potrebbero essere i LEP? Allora, in campo scolastico i LEP potrebbero essere per esempio relativi alle menze scolastiche, potrebbero essere relativi per esempio ai trasporti. Noi sappiamo, i trasporti scuolabus per intenderci, noi sappiamo che questi elementi non sono ancora stati definiti, nonostante la riforma del titolo quinto nel secondo comma dell'articolo 117, assegnasse alle competenze legislative esclusive dello Stato e dunque al Parlamento la determinazione dei LEP. Per questi, dal 2001 al 24 sono 23 anni, i LEP non sono stati definiti, né sono stati definiti attraverso il colpo di mano che ha tentato questo governo. Ovvero, invece di assegnare al Parlamento e possibilmente ad una consultazione di tutti i territori il dibattito sulla determinazione dei LEP, loro l'hanno affidata ad una cabina di regia di nomina governativa affiancata da una CLEP presieduta da Sabino Cassese. Peccato che da questa CLEP facevano parte Bassanini faceva parte a Mato, che sono stati padri nobili, tra virgolette, della riforma del titolo quinto e che se ne sono andati dalla CLEP, se ne sono andati, si sono autosospesi da quella commissione proprio perché quella commissione ignorava queste sperequazioni terribili che ci sono tra Nord e Sud. Detto questo, io voglio dire una cosa molto chiara. Noi dei Comitati per il ritiro di ogni autonomia differenziata, forti anche di una giurisprudenza costituzionale, pensiamo che quell'aggettivo essenziale sia ributtante. Cioè, noi non riteniamo che la Costituzione, in particolare il secondo comma dell'articolo 3, possa prevedere che Reggio Calabria abbia il livello essenziale di prestazione sugli anzili nido e Reggio Emilia abbia 5, 6, 7 volte il numero degli anzili nido a parità di abitanti, così come già accade adesso. I nostri livelli essenziali di prestazione, sai dove stanno Reginaldo? Stanno nell'eseguire il dettato del comma 2 dell'articolo 3 della Costituzione. È per questo che noi parliamo di livelli uniformi di prestazione garantiti su tutto il territorio nazionale. Senti Marina, chiudiamo dicendo rapidissimamente, ma i Comitati per il ritiro di ogni autonomia differenziata, esattamente che cosa sono? Perché voi vi chiamate Comitati? Ci chiamiamo Comitati perché da un'assemblea... Noi cominciamo prima di tutto a parlare di autonomia differenziata come tavolo scuola, cioè nella nostra ignoranza crassa, nel 2017, nel 2018, dopo le preintese gentiloni con le regioni, abbiamo pensato ma questa cosa riguarderà solo la scuola, ci colpì la scuola e quindi abbiamo lavorato per tutto il 2018 e una parte del 2019 come tavolo scuola, mettendo ecumenicamente insieme sindacati di base e sindacati. In quell'epoca mi ricordo che mi facessi anche un'altra intervista. Poi il 7 luglio, poi ci siamo resi conto che la realtà era ben più tragica, cioè c'erano altre 22 materie, penso lo sappiate tutti, c'è l'ambiente, ci sono le infrastrutture, c'è la sanità, c'è la sicurezza sul lavoro, c'è la trasmissione di energia, ci sono i beni culturali e ve ne ho dette sei, sono 23 le materie disponibili per la potestà legislativa, quindi facemmo questa grande assemblea a Roma e fondammo il Comitato per il ritiro di ogni autonomia differenziata che però si cominciò a moltiplicare sul territorio, siamo arrivati a 40 comitati locali, con dei comitati più o meno forti, più o meno frequentati come accade in questi tempi di magra partecipazione che si sono occupati soprattutto di formazione e di informazione delle cittadine e dei cittadini, io personalmente sto alla 189esima assemblea pubblica in questi anni, quindi ho girato letteralmente l'Italia da nord a sud ovunque e poi il 30 ottobre del 2021, cioè due anni dopo, abbiamo fondato un tavolo di scopo che si chiama Tavolo Nordi a cui partecipano parti dei sindacati confederali, in particolare del comparto scuola, UIL e CGL, cioè la FLC e la UIL scuola e poi partecipano sindacati di base, partiti politici e movimento ed è un comitato di scopo nel senso che in questo momento ha precisamente lo scopo di tentare di mettere più sabbia possibile negli ingranaggi di questo meccanismo eversivo. Per concludere questa chiacchierata che abbiamo fatto con te, nell'immediato voi che cosa avete in programma? Allora, nell'immediato noi abbiamo in programma di continuare indefessamente sia la nostra mobilitazione popolare, sia la nostra azione di formazione e di informazione. Per quanto riguarda quest'ultima, nel mese di febbraio noi abbiamo fatto tantissimi webinar su ambiente e autonomia differenziata, diciamo tematici, sanità e autonomia differenziata, premierato ed autonomia differenziata. Faremo una presentazione del volume LEFT che è stato dedicato all'autonomia differenziata e un webinar apposito su autonomia differenziata e donne. E poi mobilitazione, quindi avremo il 24 febbraio una grande assemblea alla Camera del Lavoro di Milano, 24 febbraio ore 10.30, sul tema autonomia differenziata, due punti, contratto collettivo nazionale, che come sapete sarà affiancato da contratti regionali nelle materie, LEP e privatizzazioni, perché, come ti dicevo prima, noi siamo assolutamente convinti, oltre che del fatto che c'è un sud di ogni nord, ma anche che i cittadini e le cittadine del nord avranno gravissimo documento dall'autonomia differenziata, soprattutto in termini di privatizzazione dei servizi. Come ci mostra tutto quello che è accaduto nelle materie attualmente di competenza legislativa concorrente, che è stato regione, la sanità, ad esempio? L'ultimissima questione, qualche giorno fa il direttore della nostra testata, Alessandro Giuliani, ha intervistato la segretaria generale della FLC, Gianna Fracassi. E Gianna Fracassi ha detto appunto che il sindacato che lei guida è fermamente, nettamente contrario al progetto di legge sull'autonomia differenziata, e alla domanda ma questo che cosa vuol dire? Che si potreste anche organizzare, promuovere uno sciopero su questo? E Gianna Fracassi ha detto non lo escludiamo. Tu cosa pensi? Che potrebbe essere che in primavera ci sia uno sciopero non soltanto della CGL, ma anche di altri soggetti? Io penso che di sì, sicuramente, anzi e ovviamente lo auspico perché vedete noi dobbiamo partire dal presupposto che qui si sta disgregando il sistema istituzionale e la garanzia dei diritti sul territorio, cioè si sta dando un calcio agli articoli fondamentali della carta, cioè ciò su cui si fonda la nostra società, il nostro stare insieme, il nostro patto sociale. Allora più forze scendono in campo e naturalmente se scende in campo la CGL, se scende in campo il comparto scuola della CGL, la FLC, ne riconosciamo ovviamente l'importanza di questo evento, tant'è che abbiamo partecipato attivamente alla formazione della via maestra che portò alla manifestazione del 7 ottobre e auspichiamo in tutti i modi che questi soggetti più organizzati, più capillari sul territorio facciano propria in maniera assoluta l'urgenza, l'emergenza democratica che il Paese rischia di dover affrontare. Bene, grazie a Marina Boscaino, portavoce nazionale dei comitati per il ritiro di ogni autonomia differenziata, sicuramente il tema è caldo e quindi certamente ci sentiremo ancora nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Grazie, buon lavoro, buona serata. Grazie a tutti.